Il trasporto pubblico locale cambia passo almeno secondo quanto evidenziato dall'assessore regionale Roberto Musmanno che ha presentato le novità introdotte per il sistema. Nel corso di una conferenza stampa che si svolte nella sede della cittadella regionale a Catanzaro, Musmanno ha annunciato due iniziative. La sperimentazione dal primo marzo di collegamento su gomme per l'aeroporto di La Mezza Terme con 121 corse al giorno che saranno spostate e prevedono la fermata allo scalo. La seconda invece punta sull'apertura al pubblico per l'utilizzo della centrale operativa di controllo degli autobus, quindi ogni cittadino potrà verificare i servizi di infomobilità. Ma l'assessore ha ricordato anche la nomina del commissario Annita Serio per l'autorità regionale per il trasporto locale, incaricate di dare il via all'agenzia regionale e che presenta un curriculum che parla da sé. Rispetto all'avvio della nuova agenzia, Musmanno ha ricordato che in essa saranno rappresentati regione ed enti locali con l'obiettivo di cedere le chiavi del comando del territorio agli enti locali. Un percorso aggiunto che si concluderà con le gare per i servizi TPL che saranno riorganizzate in una logica rete parlando di cooperazione tra ferro e gomma con interventi mirati e operativi sul territorio. Quest'oggi presso la cittadella regionale di Catanzaro si è parlato delle recenti innovazioni nel sistema di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e siamo dunque con l'assessore al ramo Roberto Musmanno. Con l'assessore, lo ricorderete sicuramente, ci siamo lasciati alcuni mesi fa, nel mese di dicembre mi sembra, al termine di una lunga intervista avevo posto la domanda, assessore quando vedremo qualcosa di tangibile alle tante parole che sono state espresse nel corso di quella che era una conferenza stampa, si parlava appunto sempre di trasporto pubblico locale e lui mi disse al tempo, fra qualche mese ci si ritroverà. Stamane sono stati esposti anche dei numeri, abbiamo iniziato a dare concretezza a quelle parole e si è partiti da una base molto importante, così come è stata sottolineata dallo stesso Musmanno, costi ricavi, le percentuali che sono quasi una parola magica e io aggiungerei anche la responsabilità del tavolo tecnico e ne parleremo da qui a poco. Sì, in effetti nel fare le valutazioni non posso non ricordare che noi come assessori tecnici partiamo anche da qualche dato e il dato imbarazzante che caratterizza purtroppo la qualità e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale è questo benedetto rapporto ricavi su costi che per la nostra regione si attesta dato 2015 al pene il 22%, mentre il valore medio a livello nazionale è il 35% e in altre regioni sale a 50-55%. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che o paghiamo troppo poco il biglietti ma non è così oppure come purtroppo accade nonostante i costi che noi e l'impegno finanziario che la regione mette per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale alla fine c'è poca gente a bordo mezzo e quindi abbiamo servizi non pienamente utilizzati. Queste percentuali peggiorano soprattutto per quanto riguarda i servizi ferroviari anziché essere al 22%, stiamo parlando nell'ambito ferroviario addirittura al 13%. Quindi che facciamo? Chiudiamo le linee ferroviarie viste che danno un rapporto ricavi costi così basso? No, facciamo investimenti mirati e soprattutto per dare la possibilità al cittadino di poter avere servizi più adeguati ma anche informazione all'utenza per poter ragionevolmente dare quei servizi che l'utenza può percepire come effettivamente utili. Quindi sotto questo profilo stiamo facendo investimenti per migliorare i servizi sull'infrastruttura ferroviaria in particolare la linea ionica. Abbiamo in esercizio a partire dal 30 aprile tre swing, tre nuovi treni che vengono a seguito della chiusura del contratto e del pagamento dei contratti degli anni passati. Con il nuovo contratto avremo la fornitura di altri due treni e anche in questo caso noi opteremo perché siano degli swing in maniera tale che swing vuol dire attrazione diesel quindi possono viaggiare sulla linea ionica. Dove non esiste tra l'altro la rete elettrica. Esattamente. Miglioriamo la qualità e proviamo a ragionare sui servizi di adduzione ferro-gomma e quindi cosa vuol dire? Vuol dire per esempio sin da subito lavorare per consentire a un cittadino che vuole prendere il treno e arrivare a Catanzaro Lido avere la possibilità di combinare il modo di trasporto treno-gomma arrivando a Catanzaro Lido può prendere anche il pullman per arrivare a Catanzaro centro oppure qui a Germaneto lato Università Magna Grecia oppure qui in regione. Con lo stesso biglietto quindi non deve comprare due biglietti con lo stesso titolo di viaggio o abbonamento da qui a breve si avrà la possibilità di viaggiare anche sulla gomma e quindi avere la possibilità di combinare questo modo. Tutto queste sono soluzioni palliative. Ne abbiamo un'altra messa in campo che è l'organizzazione che porta ad avere servizi su bus avendo come fermata la stazione di Lamezia Terme Aeroporto. Cosa abbiamo fatto? Tutte le corse che transitano per lo svincolo autostradale di Lamezia Terme hanno l'obbligo adesso per i prossimi due mesi a partire dal primo marzo di uscire a Lamezia Terme e arrivare all'aeroporto, fare una sosta e quindi imbarcare o lasciare passeggeri che hanno l'idea di prendere o di arrivare all'aerostazione. Sono 121 corsi al giorno. Questo vuol dire che aumentiamo l'offerta dei servizi per il momento in modo sperimentale. Tra l'altro questa sperimentazione costa zero. Questo ci consentirà al termine di questo periodo di valutare poi quali servizi rendere permanenti. E questo per venire incontro a delle esigenze da parte dell'utenza di avere servizi con l'aeroporto più importante della regione e quindi avere la possibilità di abbandonare l'auto. Perché ricordiamoci che lo studio fatto dall'Università della Calabria ci porta a dire che il 65% delle persone che hanno necessità di arrivare alla Lamezia Terme Aeroporto usa il mezzo privato e quindi siamo su numeri che sono insostenibili. Noi vogliamo utilizzare i mezzi pubblici però vogliamo rendere i mezzi pubblici fruibili e quindi questo ci costa zero e quindi è una sperimentazione anche questa che è un'attività operativa. Poi abbiamo fatto un'altra cosa invece più importante, oserei dire, non che non sia importante ma è sicuramente significativa, quella di rendere finalmente funzionante al pubblico la centrale operativa per il monitoraggio e il controllo della flotta dei veicoli. Non tutti sanno che a bordo degli autobus in Calabria c'è un sistema che consente di rilevare la posizione tramite il GPS, quindi la posizione satellitare, e trasmettere un dato in centrale. Questo dato noi lo utilizziamo per certificare i servizi che vengono effettuati ma oggi servono anche per poter fornire all'utenza informazioni sulla posizione in tempo reale dei pullman e quindi segnalare i ritardi all'arrivo delle fermate, delle stazioni, ma soprattutto anche di avere finalmente a disposizione online con dei semplici strumenti, i quadri orari e quindi le possibilità dei collegamenti utilizzando anche i vari vettori e quindi io so finalmente da dove parte un pullman, a che ora arriva e se ha qualche minuto di ritardo. E queste informazioni sono anche disponibili sui palmari attraverso delle operazioni di infomobilità che sono già in atto e già a disposizione dell'utenza. Ma la cosa più importante, e quindi passiamo a livello strategico, siamo partiti dal basso e stiamo risalendo verso l'alto, la questione più importante è che stiamo dando attuazione in maniera abbastanza evidente alla legge 35 del 2015, che è la legge che ha riorganizzato i servizi di trasporto pubblico locale. Questa legge istituisce l'ente di governo del servizio di trasporto pubblico locale sull'unico bacino regionale che si chiama Artcal, che è l'autorità regionale dei trasporti, che ha un suo commissario che la legge prevede debba istituire l'ente di governo e dare via finalmente non solo alla programmazione dei servizi riorganizzati secondo un programma che sia quello di utilizzare le risorse in modo migliore, più efficiente, ma anche e soprattutto quello che i servizi saranno affidati tramite gara. Quindi nei vari ambiti in cui noi organizzeremo le gare saranno più di uno, finalmente i servizi saranno affidati aprendo al mercato e quindi ci sarà una gara e vinca il migliore e quindi poi potremo avere finalmente servizi che possiamo riorganizzare partendo sostanzialmente da zero e quindi una riorganizzazione che non sia vincolata da quelle che sono i vincoli, le gacci e le norme che oggi ci costringono a portare l'attuazione dei contratti oggi in essere con tutti gli operatori. Non è una guerra contro, è una guerra che si combatte ogni giorno a favore dei cittadini della Calabria che oggi meritano molto di più di quello che oggi hanno. Assessore nel corso del suo intervento ha esposto anche delle cifre che sono piuttosto importanti, però è chiaro adesso trasmetterle ai nostri telespettatori che poi sono gli stessi utenti, in gran parte poi diventa quasi una confusione di dati. Fondamentalmente si è vinto quanto sia necessario che ci sia davvero un tavolo serio, tecnico di concertazione, lei ha parlato anche del commissario per il piano dei trasporti pubblici, ma che avrà anche un ruolo di controllo tutto sommato per quanto riguarda l'affidamento degli stessi servizi. Noi in passato abbiamo avuto anche modo di registrare negli anni problemi che la stessa regione aveva con il trasporto privato, evitare le sovrapposizioni gomma, ferro, che significa anche quanto nel passato si sia ascoltato solo una piccola parte. Noi stiamo partendo da zero in realtà, ci sembra di capire, anche per quanto riguarda l'informazione che viene data agli utenti. Noi abbiamo deciso di lasciare lungo tutto questo servizio un sito al quale rivolgersi, va bene? Perché a questo tavolo di concertazione è quello che ci sia anche il mondo dell'informazione, è in dubbio questo, è vero? È importante che però si tenga ferma la direzione verso uno riordino, un'ottimizzazione, comunque che il trasporto pubblico locale in Calabria cambi. Allora, il ragionamento di fondo è l'interesse che hanno tutti, in questo caso non ci sono interessi divergenti. Il riferimento importante è un banale numero, che è il rapporto, come abbiamo detto, ricavi costi. Noi siamo, siccome prendiamo delle cifre dallo Stato che ci arrivano secondo una premialità, questa premialità non arriva se incrementiamo il rapporto ricavi costi, quindi tutti noi abbiamo, compreso le aziende, un unico obiettivo che è quello di incrementare il numero di viaggiatori. Per incrementare il numero di viaggiatori dobbiamo offrire servizi migliori. Tutto il nostro operato è teso ogni giorno a costruire soluzioni che possano dare la possibilità di avere servizi di trasporto più efficienti per poter migliorare anche questo semplice parametro. Il commissario non ha il ruolo di commissariare la regione sui trasporti, il commissario ha il compito di istituire un ente di governo, perché siccome l'ente di governo deve poi assumere delle decisioni importanti e l'ente di governo è rappresentato dalla regione e dagli enti locali, per poter poi prendere queste decisioni importanti è necessario che l'ente di governo sia prima istituito e possa iniziare a operare. Ecco perché c'è il commissario. Il commissario ha soltanto il compito di istituire l'ente di governo e assumere a sé, avvocare a sé tutti i poteri per far partire questo ente. L'ente che deve fare? Deve innanzitutto avviare la programmazione dei servizi, cosa che sta facendo ovviamente con la nostra collaborazione, con la collaborazione della regione in particolare attraverso un processo di ascolto del territorio, quindi noi ascoltiamo le esigenze del territorio e quindi ci sono regioni con le associazioni dei pendolari. Ora questo assessorato si è distinto per esempio sui servizi ferroviari per aver provato a coinvolgere addirittura nella fase di programmazione le associazioni dei pendolari. Questa cosa in alcuni casi è stata interpretata quasi come se uno avesse voluto creare in realtà un tavolo truccato perché in realtà era un modo come per escludere le associazioni. Ora il problema che volevo chiarire senza fare assolutamente polemiche è quello che le associazioni per poter partecipare a un tavolo a livello di programmazione devono poter esprimere realmente le esigenze dei territori e degli utenti che queste associazioni rappresentano, quindi non possiamo fare tavoli con 50 associazioni e dall'altra parte l'assessore Trenitali RFI, perché questo non è un modo corretto di approcciare il problema. Dobbiamo selezionare le associazioni che devono rappresentare congiuntamente tutti gli obiettivi che poi è quello di ascoltare il territorio. Le associazioni devono quindi fare uno sforzo di sintesi, non si possono presentare in 50, devono ridursi per poter raccogliere le istanze e presentarsi ai tavoli. Noi saremo ben felici di ospitare tutte le associazioni che avranno un minimo di numeri. Quali sono questi numeri? Almeno 20 persone. Credo che un'associazione di 20 persone per stabilire la riorganizzazione dei servizi di trasporto, credo che sia un numero accettabile, non abbiamo scritto 2000 iscritti, ne abbiamo pretesi che siano 20. Devono essere associazioni riconosciute, quindi registrate, vuol dire trasmettere lo statuto alla prefettura, secondo le norme. E poi devono avere comunque un obiettivo che è quello di essere associazioni legate al trasporto ferroviario, perché altrimenti io potrei, come ho fatto un esempio, portare un'associazione Amici della Musica, che magari è importante, hanno i numeri, eccetera, ma che forse non hanno un titolo a discutere. Solo una piccola nota curiosa, così a proposito delle associazioni, non vorrei che magari ci fossero delle associazioni di natura artistico-culturale che dicessero che il trasporto pubblico serve per il turista e quindi noi potremmo rientrare a pieno titolo, voglio dire. Quali sono i paletti dentro i quali bisogna, perché altrimenti dalle nostre parti adesso siamo abituati a diffidare di tutto. Allora, innanzitutto in primis io ho fatto questa osservazione, chiedo di sapere in quale altra regione del mondo, in fase di programmazione dei servizi, quindi non poi per discutere dei servizi che vengono stabiliti altrove e poi vengono propinati, ma in fase di programmazione si dia la possibilità alle associazioni di partecipare ai tavoli, mi si dica in quale altro posto questo accade. Quindi io sono il primo A. È ovvio che ci sono delle regole. Queste regole, peraltro, non è che sono stabilite oggi, o meglio, che le associazioni devono rispettare queste regole oggi. Le associazioni possono tranquillamente soddisfare questi requisiti anche nel corso del tempo, per cui se uno non ha registrato l'associazione alla prefettura, lo può fare oggi, non è che è impedito, quindi la domanda la può fare anche tra una settimana. Se è un'associazione, oggi ha 18 iscritti, se uno dice, siamo in 18, posso partecipare al tavolo, secondo lei che cosa risponderò io? Dice, no, devono essere me. Io quello che vorrei cercare di capire è che il tavolo, essendo un tavolo tecnico, deve discutere di problemi senza, diciamo, trasformare la discussione in un esercizio in cui ci si lamenti, prima di tutto, e poi soprattutto si discuta di massimi sistemi, ma non si arrivi poi all'operatività. Questi sono tavoli tecnici, non sono tavoli politici, e quindi a un tavolo tecnico si discute presentando soluzioni, litigando e discutendo, ma discutendo di aspetti tecnici. Quindi queste cose vengono... Conoscendo, conoscendo poi ovviamente... Esattamente, perché se no poi succede che noi magari dobbiamo discutere del fatto che, per esempio, alcuni utenti chiedono una fermata del treno, perché ci dice, per esempio, che la fermata del treno non costa niente, quindi se ci passa il treno perché non si ferma, visto che... Senza capire che in realtà il treno, quando si ferma, se questa fermata viene ripetuta per tutte le linee, per tutte le corse giornaliere e per tutto l'anno, comporta costi che possano arrivare anche a 200.000 euro all'anno. Quindi una fermata in più del treno, una fermata in meno, per me vuol dire 200.000 in più, 200.000 in meno. Siccome io poi ragiono anche in termini di ricavi costi, è chiaro che noi dobbiamo mantenere un equilibrio di bilancio e quindi noi questa cosa la dobbiamo comunque tenere conto. Magari al cittadino interessa poco, ma siccome poi le risorse per pagare le aziende ce le mettiamo noi, noi dobbiamo avere cura di non spendere i soldi o di non fare come quello nelle famiglie scelerate, in cui si vive sopra il livello del... perché poi quello che è successo, come è successo in passato, che si accumulano e si creano debiti e i debiti hanno prodotto oltre 200 milioni di risorse che noi abbiamo dovuto pagare per i servizi di trasporto negli anni, per servizi che sono stati resi, percepiti male, che hanno addirittura intaccato risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, che sono risorse che vengono messe a disposizione delle regioni per poter fare investimenti, creare e migliorare il futuro, non per pagare debiti. Per cui noi ci siamo posti un obiettivo, ma è più debiti, perché i debiti sono quelli che hanno danneggiato anche l'immagine della regione. Trenitalia oggi ci collocava con il colore rosso, cioè una regione inaffidabile che potevano assolutamente abbandonare a se stesse e quindi poi Trenitalia non aveva alcun interesse a fare servizi in Calabria di qualità, perché tanto noi non abbiamo mai pagati, avevamo 130 milioni di euro di debiti. Adesso noi, utilizzando risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, stiamo saldando questi debiti, abbiamo un piano di rientro già stabilito, siamo ormai a pochi spiccioli per chiudere le partite sui debiti e chiaramente anche il rapporto con Trenitalia e con RFI è cambiato, per cui c'è grande disponibilità anche a provare l'innovazione. C'è la garanzia comunque, c'è l'autorevolezza perché poi si acquisisce anche... Abbiamo oggi finalmente una percezione diversa di come gestire e organizzare i rapporti anche con Trenitalia e RFI. Poi, se saremo bravi, saremo capaci, non riusciremo a portare a casa, questo lo diremo poi, con il senno di poi potremo fare tutte le valutazioni di questo modo. Per il momento siamo in trincea, lavoriamo ogni giorno e c'è la garanzia per tutti i cittadini calabresi che c'è una giunta, in particolare un assessore, uno staff che sta lavorando solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini. Questo è il messaggio che io cerco di trasmettere, perché io mi sento un cittadino in trincea, che è impegnato in una missione, che spera di portare a casa con successo e che poi, terminata, continuerà a fare quello che ha fatto nei primi vent'anni. Voglio dare un'altra possibilità di parlare anche di un altro partner che ormai abbiamo compreso essere fondamentale anche per quanto riguarda gli interventi che abbiamo seguito stamane. In apertura a questo servizio parlavo di un'intervista che avevamo realizzato lo scorso dicembre, però c'è un lavoro che è iniziato nel 2011 all'Unical, quando lei ovviamente era docente. E dunque oggi ha una sorta di soddisfazione nel riuscire a parlare intanto di costi irrisori per un lavoro davvero immane, molto meticoloso e ci fa piacere poterci esprimere in questi termini. Sì, nel 2011 abbiamo iniziato questo rapporto con la Regione, quando ero professore all'Università, non è che non lo sono ancora, lo sono ancora, lo dicevo quando svolgevo un'altra missione per realizzare questa centrale operativa per il monitoraggio della flotta satellitare. Questa centrale operativa entra dal primo marzo in funzione, è disponibile per l'utenza, abbiamo ottenuto questo risultato, stiamo ancora lavorando sul caricamento di tutte le informazioni che ancora tardano a giungere, ma piano piano abbiamo, ecco, in questo ho imparato molto dal Presidente Mario Liverio perché quando inaugurò la cittadella regionale lui disse guarda facciamo le riunioni di giunta qui anche se ci sono ancora i cantieri, la sala non è pulita, perché se stiamo qui ad avere tutto pronto, qui ci trasferiamo dopo un anno. Ecco, grazie a questo impulso abbiamo imparato questa lezione, anche la centrale operativa che ancora non è perfettamente funzionante, è ancora da completare per il caricamento delle informazioni, che, ripeto, non è una questione tecnica, è una questione legata a molti aspetti che sono un po', è anche la stessa difficoltà con la quale noi non siamo mai riusciti ad avere sul sito della regione le orari di tutte le corse, ci stiamo lavorando con molta tenacia e capabilità, è una lotta che stiamo facendo ogni giorno, però io vorrei che quel numerino che indica le linee che ogni giorno sono caricate da adesso in poi, quindi dal primo marzo sia 90, 95, 100, fino ad arrivare a quel mitico 409 che vorrà dire che finalmente avremo tutte le informazioni in linea e nessuno, nessuno potrà più barare, quindi avremo i dati, chiunque saprà dove sono i pullman, a che ora passano, gli itinerari, la combinazione, avremo una centrale perfettamente funzionante e possiamo dire che siamo all'anno zero, perché noi, come ho detto tempo fa, noi non siamo all'anno zero, siamo all'anno meno uno, cioè noi stiamo partendo con un handicap grave complessivamente nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale, quindi quello che noi stiamo facendo oggi è allineare la Calabria al resto d'Italia. Adesso abbiamo un vantaggio, perché ovviamente essendo partiti in ritardo sfruttiamo anche le esperienze fatte altrove per evitare di fare gli stessi errori, ecco perché noi in questo caso possiamo dire che stiamo copiando molto bene. Assessore, la ringrazio per la sua disponibilità, sicuramente ci si ritroverà, le chiedo un'ultima risposta, ma in estrema sintesi, vorrei che fosse proprio quella ultima espressione per chiudere questo servizio di focus. Ci saranno altri problemi, lei incontrerà le diverse parti, non si esaurirà la negatività del sistema del trasporto pubblico in pochi mesi, ne siamo certi, però il percorso è iniziato. Lei in particolare, in tutto questo piano di riordino, di riorganizzazione del sistema trasporto, di cosa ha paura? Se si parla di paura, insomma. C'è qualcosa in particolare? Dice, c'è solo quello che può. Sì, ho la paura di... Io ho fatto un grandissimo investimento in termini di impegno personale per portare... La mia paura è di non avere il tempo per completare questo lavoro, non il tempo per rimanere in sella come assessore, il tempo per magari di non cogliere il risultato finale, di avere quindi il timore che questa cosa poi alla fine rimanga a metà. Io ho il mio desiderio avere la possibilità di vedere la luce di questo e poi di essere veramente in linea per dire questa cosa, cavolo, ci ho messo in mano io e alla fine ha funzionato bene. Ecco, io sarei di questo motivo d'orgoglio personale, perché sono convinto che noi possiamo fare veramente tanto e se ci riusciamo con la passione credo che poi alla fine tutti i cittadini della Calabria ne trarranno grandissimi benefici. Abbiamo già parlato nel corso di questo intervento la necessità che si debba operare in partenariato gli enti locali, ovviamente partendo dalla regione Calabria, l'utente e occorre che ci sia anche il commissario dell'ArtCal, l'attività regionale per i trasporti, presieduto dalla dottoressa Annita Serio qui con noi. Lei ha esordito dicendo quella mia è una passione per il trasporto pubblico locale. Lei capirà che in questo momento i nostri telespettatori diranno meno male che c'è qualcuno che ha la passione per un comparto che in Calabria lo è stato per tanti anni, si spera che si possa cambiare pagina, davvero un disastro. Devo dire che l'assessore dei trasporti mi sembra fortemente motivato e si sta impegnando tantissimo su tutta una serie di progetti. Prima parlava di questa sperimentazione che è stata fatta all'aeroporto di Lamezia perché l'aeroporto è un polo importantissimo di forte attrazione e quindi mi sembra che i presupposti ci siano tutti. In più questa nuova legge varata alla fine dell'anno che a mio giudizio contiene degli elementi importanti ovvero sia i presupposti e un'articolazione che potrebbe portare a una vera e propria riforma dei rapporti che finora erano regolati invece in maniera diversa. Rapporti partendo dal basso dagli utenti, enti locali, regione. Cioè ne viene configurata una forte partecipazione delle rappresentanti e degli enti locali attraverso questi organismi e come dicevo però che ovviamente non basta perché ci vuole poi da parte di tutti la consapevolezza di voler conseguire un obiettivo e quindi di voler migliorare il trasporto pubblico locale. Oltre che la consapevolezza che non basta ci vuole anche partecipazione e ci forse anche un po' di passione. Ecco perché l'obiettivo che l'assessore si è posto e i presidenti si sono posti è veramente un obiettivo assolutamente condivisibile ma dal momento che è stata come dire anche prevista una forte partecipazione di tutti per questo per conseguire questo obiettivo bisogna che tutti partecipano con una forte volontà a questo progetto. L'articolazione si occupa in pratica dell'affidamento dei servizi. Vorrei che spiegasse ai nostri telespettatori la responsabilità e i benefici che possono portare insomma a questa assunzione effettivamente di responsabilità da parte di tutti noi direi dell'intera comunità. Beh direi che come ogni legge di riforma ha il merito intanto di in qualche modo obbligare chi opera in questo settore a fare un po' i conti con quello che c'è. Già questo è un punto di partenza cioè capire come il sistema ha funzionato finora, quali sono i punti di criticità e individuare le soluzioni già è un buon punto di partenza. Partire da diciamo una conoscenza di quello che c'è già mi sembra già una buona base di partenza. Ecco allora questo processo di riforma che è stato individuato è proprio quello di andare a verificare sulla situazione attuale quelli che possono essere i punti di miglioramento del sistema a risorse date perché lo dicevamo prima c'è un fondo nazionale dei trasporti che stanzia alcune risorse e bisogna fare i conti con quelle risorse. Quindi il tutto deve avvenire in questo contesto nazionale normativo e di risorse per scendere sul locale ottimizzando quello che c'è. Quindi cercando di valorizzare le risorse che ci sono e di razionalizzarle. Questa è una parola molto abusata però è quello che si deve fare. Dottoressa Serio quando si parla di commissariamento in Calabria ci si drizzano i capelli. Non è il commissariamento così come lo intendiamo in altri ambiti ovviamente nasce anche dalla nuova legge dello scorso 15 dicembre in seno al Consiglio regionale. Questo per non dare falsi messaggi o ambiguità in questo. Per concludere dottoressa Serio per quanto attiene allo suo ruolo in modo tangibile concreto in modo tale che si possa far capire ai cittadini l'importanza che hanno le diverse partnership. Abbiamo parlato anche da qui a poco lo incontreremo i rappresentanti dell'Unical dell'università. Insomma poi si è parlato anche della necessità che si deve colloquiare su un tavolo tecnico con le associazioni che in un certo modo rappresentano poi i cittadini, l'utente. Il suo ufficio in modo concreto per far capire ai cittadini le diverse responsabilità per migliorare speriamo davvero il trasporto pubblico locale in Calabria. Intanto l'Arte Calle è costituita da un'assemblea che è costituita dai rappresentanti di tutti gli enti locali. Quindi all'assemblea che poi svolgerà funzioni di indirizzo sono rappresentati tutti, ma tutti in assoluto, dal comune più piccolo a quello più grande. Quindi già questo voglio dire è una garanzia di partecipazione per cui le istanze di cittadini potranno essere riportate in quell'ambito e tradotte in interventi concreti laddove è possibile, chiaramente in un contesto di armonico mi verrebbe da dire rispetto al quadro regionale. Quindi è una grande step in più rispetto a questo sistema che è stato individuato, come abbiamo detto nella legge ha previsto dei meccanismi di salvaguardia laddove un organismo non funziona, funziona in questo caso la legge ha sempre previsto la soluzione per dare operatività al meccanismo individuato, per consentire al processo che è stato messo in piedi di camminare. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori